Tutti gli anni 6 milioni di ettari di territorio in Italia vengono cancellati dalla cementificazione per fare spazio a strade, centri commerciali e soprattutto case, costruite indiscriminatamente e in maniera compulsiva, nonostante esistano quasi 10 milioni di alloggi sfitti. Terreno sottratto all'agricoltura, proprio mentre il settore primario deve affrontare una sfida dal cui esito potrebbe dipendere la sua stessa esistenza. Terra e cemento sono state le due tesi al centro della sesta edizione di Un'altra politica è possibile, serie di incontri organizzati da Rivalta Sostenibile, il movimento che ha portato Mauro Marinari a ballottaggio e dalla poltrona di primo cittadino di Rivalta dopo il secondo turno delle ultime amministrative. Anche qui, tra centri commerciali, abitazioni, capannoni, c'è stato un consumo di territorio effettivamente eccessivo, troppo eccessivo. Il problema è che troviamo ancora cantieri edili quando ci sono molti capannoni vuoti, ancora molti alloggi sfitti e soprattutto non c'è la consapevolezza che in questo modo andiamo a intaccare il nostro territorio. O si cambia o si distrugge il futuro delle giovani generazioni. Ne è convinto Carlin Petrini, il fondatore di Slow Food, che Rivalta ha dato la sua lettura del controverso ma imprescindibile rapporto tra territorio e agricoltura. Il territorio agricolo in questo nostro paese non può più essere ridotto né per usi di nuova energia né per usi urbanistici. Questa è una delle questioni nodali per mantenere saldo il rapporto agricoltura, cibo, patrimonio alimentare di questo nostro paese. Il giorno in cui l'Italia non avrà più contadini né artigiani, non avrà più storia. Lo diceva Pierpaolo Pasolini nei suoi scritti corsari ormai quasi 40 anni fa. La fertilità dei suoli, la biodiversità, le riserve idriche sono arrivate ad un punto critico. La crisi che l'agricoltura deve fronteggiare non è passeggera ma entropica e il sistema rischia una degenerazione verso il massimo disordine.